Cinque anni e quattro mesi tanto è durato, proroga, compresa il mandato da presidente della provincia di Chieti di Enrico Di Giuseppe Antonio, che sarà anche l'ultimo presidente di giunta eletto dai cittadini. Cinque anni in cui, ha spiegato, si è dovuto procedere al risanamento di uno degli enti più indebitati d'Italia. Nonostante le premesse grazie a Italia ai costi della politica, meno 70 per cento e alle spese superflue dell'ente, ha detto Di Giuseppe Antonio, la provincia è sulla strada giusta per il riequilibrio di bilancio, una strada che deve essere perseguita anche dal successore che però non avrà la forza dell'investitura popolare. Sicuramente avrà meno peso, già noto in questi ultimi mesi, anzi in questi ultimi due anni, una scarsa attenzione nei confronti da parte degli altri enti nei nostri riguardi. Credo sinceramente che abolire il voto popolare sia stata una scelta sbagliata. Credo che sarà sbagliata, che è sbagliata anche la scelta di sopprimere l'ente intermedio. Però vedremo che cosa succederà. Può darsi che ci sarà un'organizzazione migliore che smentirà le cose che noi abbiamo detto in questi anni sulle province. Sul fronte investimenti tra i vanti della giunta, proseguite il presidente uscente, c'è la via verde della costa dei trabocchi. Poi il progetto Elena, 80 milioni per l'efficientamento energetico, i 15 milioni per la formazione e i 47 per le strade e le scuole. Il tutto ha concluso di Giuseppe Antonio ringraziando anche i dipendenti dell'ente, sentendoci quasi degli abusivi in procinto di essere cancellati da un momento all'altro.